Amici di Onda Libera, siamo nella palestra dello scientifico di Fano, dove è in corso l'allenamento della compagnia Arcieri Vega di Fano e con noi è Fiorangelo De Benedictis, presidente uscente della compagnia Arcieri di Fano. Allora, si è appena concluso esattamente ieri, domenica, il primo Memorial Pioferri Allora, noi ti abbiamo già intervistato durante la gara, però ci vuoi spiegare meglio come è nata questa iniziativa del Memorial? È nata un Memorial per Pioferri perché Pio è stato un personaggio importante nella nostra associazione lui è stato prima di tutto socio fondatore, ha fondato questa società nel 1985 insieme ad altri cinque siamo avventurieri. Poi questa società è cresciuta lui è stato anche istruttore federale di secondo livello addirittura interveniva anche a livello regionale, lo chiamavano perché era molto esperto e ai suoi tempi è stato anche un'ottima arciere. Siccome l'anno scorso è venuto a mancare abbiamo sentito proprio il dovere di dedicare a lui almeno questa manifestazione al giro di 12 mesi dalla sua scomparsa. Parliamo adesso un po' dell'attività del tiro con l'arco perché pur essendo uno sport tra i più antichi, in particolare dell'uomo forse non è così conosciuto dal grande pubblico cerchiamo allora di spiegare qualcosa di tecnico di questo sport come si svolge una gara di tiro con l'arco? Come per esempio la gara che avete organizzato? Come si svolge letteralmente? Allora il tiro con l'arco prevede gare indoor nel periodo freddo e gare all'aperto le gare al chiuso comprendono due distanze o 18 metri come nel nostro caso oppure per palestre più capienti anche 25 metri però i campionati italiani sono sempre a 18 metri che è la distanza diciamo ufficiale invece per i tiri all'aperto c'è 70 metri round che ci sono a distanza seconda dell'età dei ragazzi quindi la distanza ufficiale è 70 metri poi per i più anziani 60 metri così a scalare per i ragazzi all'aperto sono tiri più belli perché vedi la freccia volare sono tiri più... invece anche il tiro al chiuso ha delle difficoltà perché il bersaglio è molto più piccolo L'attrezzo sportivo che viene utilizzato è un arco che scaglia delle frecce e diciamo siccome abbiamo visto che in squadra ci sono dei giovanissimi anche ecco, può essere pericoloso per questi giovanissimi quali sono gli accorgimenti che vengono messi in atto per evitare incidenti? Si pensa una volta che l'arco sia un'arma invece l'arco non è un'arma è un attrezzo sportivo che viene portato smontato viene caricato solo nei luoghi accessibili al tiro con l'arco quindi dove la federazione dà l'autorizzazione viene montato e ci sono tanti tipi di archi a seconda dell'età a seconda della forza quindi ci sono archi più potenti archi meno potenti ognuno poi diciamo sceglie l'arco che fa il caso suo e utilizza quello l'arco naturalmente non è pericoloso perché? perché l'arciere prima di accedere a una gara o sulla linea di tiro deve fare un corso quando ha finito il corso lui sa che non può alzare la freccia non può alzare l'arco fin tanto che non è sulla linea di tiro e l'arco è puntato verso il bersaglio quindi c'è un protocollo di sicurezza che prevede tutto questo inoltre anche dietro la linea dove impattano le frecce c'è sempre obbligatorio mettere una rete battifreccia in modo che anche se per sbaglio la freccia esce dal paglione dal battifreccia viene ammortizzata dalla rete questo noi lo facciamo sia all'interno delle palestre che al di fuori della paletta e poi specialmente all'aperto dietro all'ultimo paglione c'è deve essere una distanza tale in modo che anche se la freccia non prende niente non cade mai al di fuori dell'impianto perfetto infatti questa compagnia da quanti anni è in corso? ho detto dall'85 che esiste questa compagnia io sono entrato 3-4 anni dopo dentro di questi anni non c'è mai stato neanche un incidente? mai a meno che come si sente a volte si è sentito dire ultimamente dai media cioè se l'arco viene usato impropriamente è logico che può essere pericoloso perché l'arco è potente la freccia è come un proiettile però l'arciere che fa le gare l'arciere che usa l'arco come sport utilizza gli impianti e utilizza tutte le norme tutte le regole che stabilisce la federazione altrimenti viene espulso non può entrare più in un impianto per l'arco ecco poi ci sono delle norme di sicurezza durante la gara ma poi avremo modo di intervistare il direttore di tiri che ci spiegherà esattamente come funziona ok allora cosa possiamo dire per invogliare a intraprendere questa attività? allora invogliare questa disciplina diciamo che è adatta a tutti da partire da 10 anni fino a che uno ha la forza di... tu sei ancora un arciere come no? sono un arciere diciamo con i miei limiti però ancora mi piace tirare anche perché è uno sport che abitua molto alla disciplina infatti abbiamo un gruppo di 10-12 ragazzi ma questa disciplina li ha fatti sentire così accorpati che diventano amici tra di loro discutono, si vedono è una cosa bella vedere tanto è vero che l'arbitro che ieri ha partecipato che è stato con i ragazzi ha detto che si è sentito come a casa sua e non ha mai visto una gara così bella infatti cosa diciamo non così scontata avere un gruppo di ragazzi giovanissimi giovani e giovanissimi che sono così appassionati di tiro con la... molto amici fra di loro scambiano le loro esperienze partecipano alle gare e fanno anche degli ottimi punteggiri tutti hanno portato a casa una medaglia con grande soddisfazione e poi ne abbiamo uno in particolare che sta crescendo e ha partecipato ai campionati nazionali è campione regionale delle Marche Pierini Nicola e quindi siamo molto soddisfatti Quanti anni ha Pierini Nicola? Mi sembra 17 anni vai sui 18 giovanissimo una vera promessa insomma speriamo comunque diciamo la sto facendo Siamo ora con Tommaso Perugini che oltre ad essere arciere quindi è un atleta e anche direttore di tiri Sì Dico bene come è qualifica? sono direttore di tiri e responsabile degli atleti degli aceri veda Ecco prima con Fiorangelo De Benedicti si abbiamo accennato al problema della sicurezza Sì assolutamente Allora spiegaci bene come funziona il sistema della sicurezza durante una gara Durante una gara come in allenamento la sicurezza degli atleti e dei partecipanti tutti e non solo anche del pubblico è regolamentata da un rigidissimo protocollo comportamentale questo protocollo è stato approvato e studiato dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco di conseguenza è assolutamente collaudato e sicuro questo protocollo e queste norme che lo compongono vanno ad impattare riguardo i movimenti concessi durante una gara il poter o meno muoversi durante la gara nell'area di tiro e permettono alla manifestazione di svolgersi in totale sicurezza e lo stesso identico protocollo ovviamente senza riguardo per il pubblico perché non c'è viene applicato in allenamento Ecco spiegaci io ho visto che c'erano dei semafori come funziona il discorso dei semafori quali sono i segnali che vengono dati per far sì che appunto la gara si svolga nella massima sicurezza Allora per quello che riguarda i semafori si parla semplicemente di un impianto di temporizzazione che regola la durata delle manche di tiro le cosiddette volé ed è compito appunto del direttore dei tiri che sarei io in questo caso per la nostra società che fa sì che questo temporizzatore venga utilizzato nel migliore dei modi che assolva egregiamente il suo compito che è quello di dare all'atleta dei tempi per cui tirare presentarsi in linea tornare nell'area dedicata all'attesa e consentire mediante una sirena abbastanza potente quindi udibile perfettamente da tutti sia pubblico che atleti quando che entra in funzione quando la gara riprende oppure si stoppa per il recupero frecce o per qualsiasi altro motivo anche emergenziale nel caso e inoltre poi in campo c'è anche un arbitro che controlla tutto assolutamente l'arbitro ha il compito di anzitutto essere giudice supremo di quello che accade all'interno dell'impianto e di tutto ciò che concerne la gara sia aspetti tecnici che non quindi anche la sicurezza è delegata a lui e gli arbitri sono tutti dei professionisti della federazione italiana di tiro con l'arco quindi di assoluta fiducia assoluta competenza e grandissima formazione e professionalità da quanto tempo tiri con l'arco? allora inizialmente i primi passi li ho mosse nel 2018 e ad un livello diciamo serio e con grande dedizione da tre anni a questa parte siamo adesso con Franco Macinelli Franco Macinelli è il tecnico della squadra è l'allenatore l'istruttore diciamo l'esperto che ha costruito l'attuale squadra di giovani di agonisti diciamo allora spiegaci un po' i meccanismi tecnici dell'arco quanti tipi di arco abbiamo e quali sono le caratteristiche di ognuno? allora fondamentalmente gli archi sono tre tre divisioni arco compound arco olimpico e arco nudo che è un arco come l'olimpico però non ha stabilizzazione mirino e altri accessori le differenze sono sostanzialmente nel in queste ruote che si chiamano cam che hanno la funzione di demoltiplicare la potenza dell'arco quindi l'arciere quando è in fase di mira diciamo ha un peso un carico minore e quindi ha una miglior gestione dell'attrezzo però al contempo è più potente e più preciso l'arco olimpico è quello che normalmente viene usato alle olimpiadi e quindi si chiama olimpico per quello l'arco nudo è l'arco più tradizionale diciamo più romantico dei tre ecco allora abbiamo visto che nella squadra ci sono atleti di varie età allora da che età si va fino a che età possiamo arrivare allora l'età va nel settore giovanile dai 10 anni fino ai 18 anni dopodiché uno diventa senior e quindi è già nei grandi queste età a loro volta sono suddivise in fasce di categorie che sono i giovanissimi ragazzi allievi e juniors di due anni in due anni e ovviamente dopo nelle fasce di età nei giovanissimi poi a seconda dei punteggi che fanno i ragazzi hanno delle categorie di merito che vanno a crescere e poi dopo al millesimo dell'anno uno passa di categoria a prescindere dal punteggio che ha passa di categoria e quindi rinizia da capo ecco generalmente un corso viene valutato in dieci lezioni però ovviamente per i minorenni queste dieci lezioni non finiscono mai perché finché diventano maggiorenni sono sempre seguiti dal tecnico per i maggiorenni invece al termine di dieci lezioni uno inizia a fare gli allenamenti in proprio si prende l'attrezzatura si allena in proprio e viene sempre seguito dal tecnico perché il tecnico è sempre presente guarda consiglia un problema può avere un atleta qualcosa lo chiama e gli viene detto cosa deve fare e i ragazzi come ho detto fino a che sono minorenni sono sempre seguiti dal tecnico e nelle sedute di allenamento si fa la prima parte di riscaldamento perché diciamo la prima cosa è non farsi male perché se no la seconda cosa è divertirsi ma se non c'è la prima non c'è neanche la seconda anche perché diciamo anche se a vedere sembra che sia uno sport tranquillo ma in realtà c'è una prestazione fisica non indifferente energie soprattutto mentali notevole ma anche fisica perché gli archi fino a che potenza possono arrivare si la fisicità è abbastanza relativa perché nel tiro indoor la distanza è 18 metri o 25 quindi 18 metri diciamo ci si arriva a tutti all'aperto le distanze aumentano però è proprio l'affaticamento mentale che comporta il tiro con l'arco perché il 90% del tiro con l'arco è concentrazione dell'atleta sul tiro poi viene la tecnica e alla fine viene i materiali però questo impegno mentale dopo gli si rivolge anche sulla vita sulla vita sullo studio sul comportamento perché adesso il tiro con l'arco è più almeno per conto mio è più visto come una disciplina che proprio come un'attività sportiva e questo gli giova molto cioè io ho avuto delle madri che mi chiamavano diciamo quando viene a tirare con l'arco è migliorata negli studi va bene a scuola di tutto ecco poi diciamo anche che è uno sport inclusivo diciamo questo qui perché io ho visto adesso nella gara che si è conclusa ieri praticamente nella linea di tiro c'erano uomini e donne insieme quindi gareggiavano contemporaneamente sì sì tutto si gareggia uomini e donne non solo ma anche ragazzi e adulti anche perché cioè in una gara la principale gara che ha l'atleta ce l'ha contro se stesso non ce l'ha contro gli altri è per quello che anche come sport non c'ha quell'aggressività verso l'avversario come c'erano gli altri capito perché proprio perché cioè te combatti contro di te contro la tua ansia contro la gestione della gara proprio come gestione fisica mentale e quindi sono tutti amici cioè i ragazzi hanno gruppi whatsapp con quelli di altre città di altre regioni si sentono si conoscono vanno a cena insieme andiamo a fare le gare e poi dopo tutti a cena tutti a pranzo non ci sono quei contrasti che invece vediamo in altri sport tipo non so il calcio assolutamente non c'è a parte che anche questo è uno sport non violento però non c'è proprio la rivalità tra di loro capito proprio perché il primo rivale si tiene c'è spazio anche il contorno ci sono poi dopo si va a fare le somme però quello che conta è te stesso c'è posto anche per i portatori di handicap si certo si si certo c'è a parte che lo sport poi noi abbiamo avuto un campione del mondo che era Pellegrini che era sulla sedia a rotelle c'è anche ci sono anche anche lì ad esempio in gara c'era un ragazzo che era non vedente che era su linee di tiro hanno delle attrezzature particolari però tranquillamente gariggiano c'è il campionato pararceri un atleta non vedente come fa a orientarsi che sistemi usa c'è un'attrezzatura che ci appoggia la mano ci appoggia le due nocche della mano che regge l'arco e quello lì lo orienta verso le vetri in più è anche seguito dall'accompagnatore che sta dietro di lui che ovviamente gli dice guarda sei fuori non sei fuori cioè non è che viene abbandonato a se stesso il non vedente quello che magari invece ha dei deficit motori magari sul carrozzino così sono autonomi ma in tutto e per tutto c'è gente che non ha le braccia che tira con l'arco quindi devo dire tranquillissimi le gareggiano insieme tutti possono anche gareggiare assieme però hanno una classifica a parte non sarebbe giusto ecco allora che consigli possiamo dare a un giovane che volesse intraprendere questa attività ah niente ci chiama prende un appuntamento per fare il corso e fa il corso fa il corso poi continua gli allenamenti con gli altri è solo questione di volerlo fare quindi la sede è sempre questa della palestra dello scientifico o c'è qualche altra sede scientifico ci fanno gli allenamenti gli adulti che li fanno alla sera mentre i ragazzi lo fanno al pomeriggio nella palestra della Gandiglio nella scuola media Gandiglio martedì e giovedì dalle 4 alle 6 bene allora complimenti intanto per i risultati ottenuti nella gara di ieri e anche nelle altre gare per questa poi squadra giovanissima che si è riuscito a mettere in piedi ma il merito è più di loro sono loro che gareggiano io li seguo e beh vabbè insomma è un piacere bene grazie e allora in bocca al lupo per tutti amici di Onda Libera un saluto grazie grazie